Prego Augusto. Sinteticamente, perché sento parlare questa cosa di Di Maio, però non stiamo appresso a suggestioni. Dato che ragioniamo sul metro delle poltrone, Di Maio, lì, ministro degli esteri, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, è un uomo suo, e poi c'è l'altro ministero forte dei Cinque Stelle, per lo sviluppo. Noi dobbiamo stare attenti a una cosa. Di questo governo l'unica cosa essenziale, dato che è un governo che si fa per istinto di sopravvivenza, quindi è difficile dire quelli da una parte e da un'altra parte, è un problema grosso, come una casa che è posta da questo sistema ibrido, perché stiamo andando verso una ristrutturazione dell'intero scenario politico. Questa è la posta in gioco. Per questo durerà a lungo. Durerà a lungo perché devi dare spazio e tempo che questa cosa qui si esplichi. Io non credo che alla fine di questo tragetto avremo gli stessi soggetti che abbiamo ora. purtroppo per una serie di errori e di contraddizioni che ci sono state.